Il suo gioco preferito era il fuoco. Prendeva la scatola dei fiammiferi, ne estraeva uno e lo dava alla mamma. Lei lo accendeva e glielo restituiva. Giancarlo fissava la fiammella a ardere e un attimo prima che questa raggiungesse le dita allungava il brazzo e la mamma soffiava. Marcella era solida, luminosa, elegante, nell'abitino a fiori da lei stessa cucito. Lui le sedeva vicino e la guardava cucinare. Quando preparava i biscotti avanzava della pasta cruda. Allora Giancarlo ne faceva una pallina e la faceva arrotolare lungo le disegnature della tovaglia. Era divertente, andava avanti così per un po' finché non desisteva più e mangiava la pallina. Dopo ne faceva subito un'altra. Marcella sorrideva. Attento Giancarlino o ti verrà il mal di pancia. Un altro gioco era quello di spargere gli aghi sulla tovaglia e recuperarli facendo rotolare la calamita. Anche questo era divertente. Ma il suo gioco preferito era il fuoco. Ancora uno mamma. Giancarlino, così mi sprechi tutti i fiammiferi. Un altro e poi basta. Va bene? Va bene. Di nuovo Giancarlo fissava il fuoco scorgere lungo lo stelo e un attimo prima che raggiungesse le dita Marcella soffiava. Ancora? Va bene. L'ultima volta. Sì, ecco fatto. Accendeva, aspettava, soffiava. Contento? Ancora uno mamma, ancora uno. Un giorno Marcella gli accese l'ennesimo fiammifero e uscì dalla cucina. Si fermò dietro la porta e attese. Giancarlino l'avrebbe chiamata. Lei non si sarebbe mossa e questo gioco dei fiammiferi sarebbe finito una buona volta. Giancarlino non la chiamò. Marcella rientrò e lo vide seduto in silenzio con le mani infilate tra le cosce. Si avvicinò, gli sollevò la mano destra e vide che l'indice e il pollice erano anneriti. Per terra. Terra è il fiammifero carbonizzato. Marcella gli carezzò il capo. Il morso del lupo disse. Capita a tutti. Non mi prenderà mai più, lo giuro, rispose Giancarlo. In caserma c'era odore d'officina. Il caporeparto, un pezzo d'uomo con due gambe che sembravano colonne, parlava chiaro. Vedete quel cartello? Un giorno senza rischio è un giorno non vissuto. È proprio così. Il pericolo è la nostra giornata. Giancarlo beveva ogni parola. Finalmente era riuscito ad entrare nei pompieri. Quante volte era rimasto impalato su due piedi nel vederli passare a sirene spiegate. Ora era uno di loro. Non sarete mai del tutto preparati a quello che vi accadrà. Ogni intervento sarà diverso dai precedenti. Le fiamme sono vive e imprevedibili. Quando le vedrete divampare sentirete il sangue cantarvi nelle vene. Ma la prima regola è una, è solo una. Mantenere la calma. Il caporeparto schioccò le dita davanti al naso di un biondino. Figliuolo, bisogna che tu stia attento. Vispo. Camminava avanti e indietro, grattandosi la barba corta e nera. Era un pezzo d'uomo che sprizzava sicurezza. Il nostro è un corpo nobile e antico. Già al tempo dei romani c'erano le leghe dei pompieri. Mica era tutto di magma travertino. Gran parte della città era di legno. Fu Augusto a creare i pompieri. Le caserne erano riscaldate coi braceri e il fuoco ha sempre fatto dei danni. L'uomo non sa gestire il fuoco. Non c'è niente da fare. Divenne serio, quasi severo. E allora interveniamo noi. Il nostro lavoro è un corpo a corpo col fuoco. Non ci sono macchinari né dispositivi protettivi individuali. Forse un giorno ci saranno, ma non oggi. Oggi il fuoco. Lo affrontiamo a faccia nuda. Ogni squadra ha a disposizione una sola maschera che si dà al sacrificato. Silenzio. Il sacrificato è l'uomo che attacca il fuoco. Chiunque sarà di volta in volta sarà attento e vispo e i suoi compagni faranno in modo che nulla vada storto. Un altro silenzio, più lungo. Dovrete essere preparati a tutto, perché tutto brucia, figliuoli. Anche la roccia. Avete presente un'eruzione vulcanica? Sollevò un volume dalla scrivania, diede una sventagliata alle pagine e lo passò a Giancarlo. Fece un gesto come a dire fai girare. Sarete in grado di riconoscere la gradazione di un incendio a seconda del colore. Ma non dovrete solo tenerlo d'occhio. Dovrete ascoltarlo. Giancarlo si guardò intorno. La presenza silenziosa dei suoi compagni, la voce franca del caporeparto e quel cartello sul muro gli mettevano addosso a una gran voglia di entrare in azione. Sarebbe stato presto, ne era sicuro. Molto presto, perché l'uomo non sa gestire il fuoco. Non aveva detto così il capo. Anche le nuvole bruciano. Le lenti dell'uomo brillavano e i suoi bottoni risplendevano nel buio. Il fuoco. Il fuoco. Ripeteva. Gli si torse il viso e sacca sciò. Dite al dottore di venire qui, gridò Giancarlo. Questo è un arrasto cardiaco. Si chinò sull'uomo e cominciò la compressione toracica. Arrivò il medico. Ci penso io, Bugetti. Giancarlo si alzò. La fabbrica davanti a lui era un'imponenza. Trecento metri di cemento in fiamme. Il fumo, denso e nero, usciva dai finestroni come da una ciminiera. Sciami di scintille, trascinate dalle esalazioni dell'incendio, volteggiavano alte, in cielo. All'intorno qualcuno pregava. Qualcun altro curiosava. Altri erano intontiti, come fossero stati bastonati. I pompieri si mossero, tutti dietro al Bugetti. Gli sembrò di entrare in un forno. Penetrarono a fondo. Enorme valle di merci ardevano ovunque, come fossero unte. Persone non ce n'erano, ma si doveva tentare di salvare la struttura. Il fuoco ribolliva fino al soffitto, come la schiuma di una cascata. Giancarlo sentì un rumore sordo farsi strada nel frastuono. La belva brontola, pensò. Avvertì un tremore sotto i piedi. guardò le colonne di cemento armato. E capì. Il ferro fonde. Sfilò l'ascia e l'alzò sopra la testa. Fuori tutti! Un ruggito crescente salì dalle fondamenta. I plinti stavano cedendo. Il suolo ondeggiò. Le gigantesche colonne cominciarono a cadere come i pezzi di un domino. Le pareti, crollando, schiantavano i finestroni. Una pioggia di schegze luminose cadde sui pompieri in corsa. Non tutti fecero in tempo ad uscire. Ogni domenica Giancarlo pranzava da Marcella. Lei viveva da sola nella casa del Lungarno Vespucci dove si erano trasferiti dopo aver lasciato Sestano. Oggi è minestrone, va bene? Come no? Tutto bene al lavoro? Sì, mamma. Ti ricordi cosa ti ha detto il babbo e la Mary quando tornasti a casa dicendo che volevi entrare nei pompieri? Sì, che me lo ricordo. Ti dissero in coro. Oh, sei matto? Marcella rise. Hai sempre avuto questa cosa di aiutare gli altri, fin da piccino. Ti ricordi di Fabio, il figuolo del fattore di Sestano? Parlava e cucinava. Ti ricordi quella volta le pozze? Giancarlo se lo ricordava. E come? Oltre il bosco, dopo la vecchia quercia, c'erano le pozze per l'acqua piovana che in inverno ghiacciavano. Tutti i genitori del paese erano stati chiari. Giocare alle pozze era vietato. Un pomeriggio Giancarlo si era inoltrato nel bosco con la sua sorellina Mary. Lei lo seguiva e lo imitava in ogni cosa, anche nel fare pipì. Guarda, Carlino, la fa come te, diceva in piedi contro un albero. Oh, Mary! Ti sporchi tutta, poi la senti la mamma. Arrivarono alle pozze, dove trovarono altri bambini. Stavano tutti sfidando Fabio, il figlio del fattore, a scivolare sulla pozza più larga. Hai paura? Dicevano. Insistettero tanto da convincerlo. Fabio prese la rincorsa e si buttò sul ghiaccio. Seduto, con le braccia intorno alle ginocchia piegate, scivolò fino ad arrivare all'altra sponda. Visto? Gridò. S'alzò per risalire, ma sudì un rumore secco e Fabio scomparve senza un grido. Tutti rimasero pietrificati. Giancarlo partì di corsa, piantò le ginocchia sulla proda e immerse le braccia nell'acqua. Dopo qualche secondo ne tirò fuori Fabio e si straiò boccheggiante sull'erba. Carlino ha salvato Fabietto, gridò la Mary. Marcella mise nel piatto una grossa fetta di pane agliato e ci versò sopra il minestrole. Nel vedervi conciati in quel modo mi prese un colpo. Giancarlo cominciò a mangiare. Ci facesti spogliare, ci desti delle coperte e ci facesti sedere davanti alla stufa. Fabio se ne stava seduto mogio mogio, poverino. Tu no. No? No, tu stavi in piedi. Gli tiravi delle pacche sulle spalle dicendo, vedrai che buone le brioche della mamma. Ogni tanto prendevi un ceppo e lo mettevi nella stufa. Ma eri così serio? Giancarlo prese un fiammifero e l'accese. Ti ricordi il morso del lupo, mamma? Lo avvicinò a Marcella. Quando la fiammella aveva quasi raggiunto le dita, lei soffiò. Il sisma si verificò alle nove di sera e le scosse si susseguirono per giorni radendo al suolo interi comuni. I pompieri intervennero da tutta la regione e dopo dal resto del paese. I turni erano estenuanti. Le ruspe aiutavano, ma le persone andavano liberate scavando con le mani. La morte aveva colpito orribilmente. I cadaveri non avevano più nulla di umano. Pallidi, i volti stravolti, le carni spremute. Quanti ne ho già raccattati così, pensava Giancarlo. Il sudore gli colava sugli occhi. Trovarono un ragazzino vivo. Come stai, figuolo? Bene, bene. Sorrideva spaventato. Il volto, bianco come burro, era rigato di polvere. Ora ti tiriamo fuori. Grazie, grazie. Sollevarono il masso che gli comprimeva le gambe. Un'artaria buttò sangue, come una fiammata. Il ragazzino li guardava, senza un lamento. Niente da fare, pensava Giancarlo, correndo verso l'infermeria. Gli morì, tra le braccia. Erano momenti come quelli a far saltare i nervi, lasciando dilagare il panico anche tra i pompieri. Non ho più la forza, Giancarlo. Ritrovala. Giancarlo ansimava tra case sventrate. Le mani gli tremavano, le gambe si afflosciavano. Anche le macerie più piccole sembravano macigni. In una cantina, sotto un'architrave, trovarono una coppia di anziani, entrambi ubriachi. Grazie, figuoli, grazie, ripeteva lei. Erano sopravvissuti per una settimana, grazie alla riserva di vino. Sono morto almeno dieci volte lì dentro. Dieci volte, urlò lui, mentre lo tiravano fuori. Ora però non vivere il resto della vita nell'attesa dell'undicesima, pallino, disse lei ridendo e piangendo. E finalmente il cambio. Brevi soste in ricoveri improvvisati. Le scosse di assestamento erano continue. Dancar, senti come batte e lascialo battere. Giancarlo si girò su un fianco e sull'altro, ma niente da fare. Non si dormiva. Nel cuore della notte suonò la sirena. Le giornate che seguivano un intervento così duro erano silenziose. In caserna ognuno attendeva le proprie mansioni. Si faceva manutenzione, piccole riparazioni. Si imbiancavano i muri delle camerate. Tutti i pompieri erano padroni di almeno un secondo mestiere. C'erano muratori, idraulici, meccanici, cuochi. Nessuna delega. Tutto in famiglia. La vita scorreva liscia fino all'intervento seguente. C'era stata un'esplosione. Si parlava di una nube di fuoco presso il vecchio ponte. Intervennero con tre squadre da quindici. Sul posto trovarono uno scenario di guerra. Ogni minuscola braccia ardeva. Tutto scintillava tra ombre profonde. Il fumo, salendo in globi densi pieni di scintille, penetrava nel cielo buio. Le finestre erano vuote di tutto, tranne che di fuoco. Le fiamme morsicavano in ogni direzione. Quelle dell'ultimo piano leccavano il tetto. I getti d'acqua sparivano nelle voragini verticali come inghiottite da un mostro biblico. Il vagliore delle fiamme deformava i connotati della gente che guardava in silenzio i pompieri. La squadra entrò. Tutti, dietro al bugetti. Salendo le scale, Giancarlo sentiva dietro di sé i passi veloci e i pesanti stivali a termici. Provò un amore improvviso, una stima totalizzante per quei ragazzi. La paura si dileguò. Sentì i muscoli traboccare forza. Arrivò nei solai. Ciò che vide fu una massa immane di termiti luminose che avanzavano lentamente, divorando i soffitti di legno intrecciato. Le fiamme non ardevano. Brucavano. Sotto quell'orda di milioni di braci in movimento, tutto era corroso. I mobili e le suppellettili erano fusi insieme in comuni neri. Una fiammata colpì Giancarlo al petto, avvolgendolo. Il giubbetto ignifugo resse. Giancarlo indietreggiò e vide un enorme pezzo di carbone. Era un corpo, carbonizzato. La squadra restò sul posto fino alle cinque del mattino. All'arrivo del cambio andarono in una caserma, nei dintorni, e crollarono non appena toccarono la branda. Dopo qualche minuto suonò la sirena. Potremmo definire così il nostro corpo. Quando tutti scappano, i vigili del fuoco arrivano. Giancarlo iniziava sempre così il suo discorso. Poi indicava il cartello sulla parete. Un giorno senza rischio e un giorno non vissuto. Quel cartello aveva cambiato posto, ma era lo stesso di trent'anni addietro. Anche l'odore della caserma era lo stesso. Odore di officina. Certe cose non cambiano mai. Quella che sentirete nelle vene non è paura, è adrenalina. I vigili del fuoco non hanno paura. Mica perché sono pazzi o eroi, ma perché sono addestrati. Hai paura solo di quello che non conosci. Certo, esiste l'incidente, l'imprevedibile, e in questo caso io faccio un salto alto così, d'accordo. Ma non svengo. Faccio un salto e agisco. A volte l'intervento riguarda vespe nei giardini e gatti sugli alberi. O magari è un fuocherello in un cassonetto. Ma anche in questi casi non dovete sottovalutare la situazione. Nel cassonetto può esserci una bomboletta antitanzare. Nella bomboletta c'è del GPL. Il GPL può esplodere. Dovete prevedere il peggio. Troppa confidenza porta agli incidenti. Uno di noi è morto perché gli è suonato il cellulare durante un intervento su una fuga di gas. Il cellulare ha fatto da innesco. Anche le esplosioni sono incendi, ragazzi. Incendi rapidissimi. Pausa. Nessuna confidenza col fuoco. Mai. Anche il focolaio della nonna può essere pericoloso. La fiamma esce dal focolaio e dilaga. Può farlo in ogni momento, in ogni luogo. Il fuoco afferra e distrugge ciò che trova sul suo percorso. Dopo che il fuoco è passato da qualche parte, nulla è più come prima. Il nostro lavoro è attaccare il fuoco. Non potendo levargli l'ossigeno, useremo il suo nemico naturale, l'acqua. Gian Carlo abbracciò l'uditorio con un moto dello sguardo. Dovete imparare dalle fiamme. Loro guizzano. Voi dovrete guizzare di più. Qualunque cosa succederà, ricordatevi che non siete soli. I vostri compagni sono con voi. Nessuno deve lasciarsi andare alla paura o alla pietà. Dovete essere di ghiaccio. Il fuoco scatena al panico. Nella fuga le persone si ostacolano tra loro, si urtano, si colpiscono, si calpestano. I ragazzi non perdevano una sillaba. Che bel tipo il bugetti. Lo avevano visto correre, sfondare porte, attaccare il fuoco conservando sempre la calma. Era invecchiato, d'accordo, ma Dio buono. Era sempre il bugetti. Ora dipendiamo dal ministero dell'interno. Ma se durante il servizio negli stadi il vicequestore vi chiedesse di puntare gli idranti sulla folla, voi non muovetevi. Se una manifestazione vi chiede di puntare gli idranti sulla gente, voi state fermi e calmi. Noi attacchiamo il fuoco, non il cittadino. Chiaro, no? Gli occhi di Gian Carlo, verdi, calmi, sinceri, sembravano acqua. Tenne nascosto il primo infarto, ma dopo l'arresto cardiaco dovete arrendersi. Di tornare in caserma non se ne parlava nemmeno. Bugetti, ti buttiamo fuori. Fate bene. Cerca di riposare, Bugetti. L'hai fatto tanto. Qualcosa dovrà pur fare. Riposa, Bugetti. Goditi la vita. Uscendo dalla caserma, Gian Carlo andò a trovare Marcella. Come va, mamma? Bene, Gian Carlo. Ma che vuoi farsi? Non sono più quella dell'anno scorso. Oh, mamma, hai novant'anni. Oltre la finestra aperta, nella trasparenza del cielo azzurro, svettava il cupolone di Brunelleschi. Stai preparando i totani al faro di Cecina? Sì, la ricetta di zio Vezio. Come prese un cesto di vimini e andò alla lavatrice. La svuotò e cominciò a stendere. I panni bianchi sembravano assorbire la luce del sole per irradiarla all'intorno. Le tappezzerie erano chiare. Il pavimento odorava di cera. Ogni cosa sembrava nuova. I comodini panciuti, gli armadi alti e capaci, i pentoloni di sestano. Tutto era pulito, solido e semplice. Mamma, ti aiuto ad apparecchiare. Lascia stare. Stai seduto. Marcella mise in tavola. Gian Carlo mangiava con gusto, ma era assente. E ora? E che fo? Si chiedeva. Vado a fare le giratine al parco? Vado al bar a giocare a carte? Rimuginava. E ora, i? Che fo? Disse. Marcella capì subito. Oh, Gian Carlo, goditi figli e nipotini. Ma qualcosa dovrò pur fare. Che cazzo ne so? Una cosa qualsiasi. Non sta più a te, Gian Carlo. Ma non ho mica abbandonato il mondo. Che credi? Che il mondo si fermi e che tu possa scendere? Il mondo è sempre lì. Va avanti e tu con lui. O provi a governarlo o lui governa te. Tutto è collegato, unito da un unico discorso. Ma tu hai già fatto. Tanto. Appeso in salotto hai ringraziamenti del ministro, le lettere dei pompieri, le medaglie. Hai pure la foto col presidente della repubblica. Non ti basta? Gian Carlo sboteva la testa. Qualcosa dovrà pur fare. Gian Carlo divenne volontario in ambulanza. Oh, bugetti, gli dicevano i medici in ospedale. Quelli in arresto. Ma sedali più piano. Mica hanno le costole di ferro. Te li porti tutti rotti. Rotti ma vivi, rispondeva Gian Carlo. Col passare degli anni gli venne il diabete e tre tumori. Operazioni su operazioni e mesi di riabilitazione. Ogni volta. Ne uscì con una terapia a vita di 23 pillole e due iniezioni al giorno. Le visite di controllo erano periodiche. Bugetti, come ti senti? Non mi posso lamentare, dottore. Bene. Gian Carlo esitò. A dire la verità, qualcosa hai cambiato. Che cosa? Mi emoziono facilmente. Cioè, che ti devo dire, dottore? Mi basta guardare le lettere dei miei pompieri. Ho le foto di mia moglie Lucia, per commuovermi. Ti ricordi il sorriso di Lucia? E chi non se lo ricorda, bugetti? Gian Carlo finì col riconoscere tutti all'ospedale. Oh, bugetti, questa è nuova, gli disse il dottore una mattina tenendo una lastra davanti a sé. Hai la sommità del cuore lacerato. Il cuore lacerato? Sì, qui sopra. Vedi? Gli mostrò la lastra. Era proprio così. La sommità del cuore sembrava scucita. Ecco perché ti commuovi facilmente, bugetti. Hai il cuore spezzato. Gian Carlo rise, ma non molto. Oh, bugetti, concluse il dottore tornando a guardare la lastra. Ma che ci vuole per ammazzarti? Una domenica, dopo un pranzo fuori porta, Gian Carlo guidava verso Firenze. Nei dintorni di Pistoia sentì un peso al petto. Sarà la digestione, pensò. Entrò in un bar e ordinò un caffè. Lo beve e fissò la tazzina vuota. Non è la digestione. Salì in macchina. Telefonò al 118. Ho un infarto in corso. Tia calmo, signore. Sono calmo. Non è ancora in fase acuta, ma manca poco. Non riuscirò a raggiungere l'ospedale. Dobbiamo trovarci a metà strada. Ma date un'ambulanza all'hotel Burchetti. Passato il signorino. Vi aspetto lì. Cominciò a prendersi a pugni il petto. Non gli sembrò abbastanza. Afferrò al volante con entrambe le mani e ci sbatte sopra il torace. Intanto seguiva le indicazioni. Raggiunse l'hotel. Parcheggiò davanti all'ingresso. Aprì le porte di vetro spingendole con le spalle e si buttò su un divano. Infarto, disse. Dio bono, gridò il portiere. Gian Carlo sentì una sirena in lontananza. Era zuppo di sudore. Chiuse gli occhi. Li riaprì. Vide il dottore. Non si preoccupi. L'aspettano in cardiologia. Nell'estrarre gli elettrostimolatori, gli infermieri fecero cadere a terra le piastre. State calmi, ragazzi, disse Gian Carlo. Il suo campo visivo andava restringendosi, come due porte che si ricodessero su di lui. Dov'è il gel isolante? Non c'è, dottore. Come? Non c'è. State calmi, ragazzi, cercò di ripetere Gian Carlo. Ma lo pensò soltanto. Era buio ormai. Prima di svenire sentì il dottore urlare. Scaricate! Si risvegliò al buio. C'erano silenzio, odore di bucato e disinfettante. Ci mise un po' a raccapezzarsi. Capì di essere in ospedale. Sentì un bruciore al petto. Trovò un interruttore. Accese la luce, si sbottò nel camice e sollevò le bende. Vide due ustioni sul torace, larghe, rosse. Sembravano proprio due morsi di lupo. Alla fine ce l'hai fatta a prendermi, disse spegnendo la luce.